Salve YouTube! Allora, oggi inauguro un nuovo genere di video. Questa nuova serie ho deciso di chiamarla Recensioni Brevissime. Questi saranno video in cui io voglio comunicare che cosa provo riguardo a un film nel modo più veloce possibile e non saranno intorno a un film solo, ma intorno a saghe, trilogie, franchises. Per ogni capitolo di queste saghe io farò la mia reazione e spero di comunicare che cosa ho provato riguardo ai film in maniera veloce e lapidaria. Quindi, cominciando subito, questa è la mia recensione brevissima dei film di Batman, senza contare quelli animati. Batman, 1989. Batman in ritorno. Wow, dark. Batman Forever. Ok. Batman e Robin. Anche davvero. Batman Begins. Il Cavaliere Oscuro. Il Cavaliere Oscuro in ritorno. Spero che vi sia piaciuto il video e a breve arriveranno altre recensioni brevissime e fatemi sapere che cosa ho pensato. Io, per la mia e il Cavaliere Oscuro in ritorno. Ciao. Grazie a tutti.